Buongiorno, mi chiamo Ilaria Galetti, sono vicepresidente del GILSI, gruppo italiano lotta alla sclerodermia o sclerosi sistemica. Faccio parte anche del board della Federazione Europea FESCA e rappresento i pazienti di sclerosi sistemica all'interno di ERN Reconnect, la rete di riferimento europea sulle malattie rare del tessuto connettivo. Ho deciso di frequentare il corso di Opati in italiano perché sicuramente è un vantaggio rispetto a tutti i corsi che ho fatto in inglese. Sono estremamente soddisfatta sia dei contenuti, degli argomenti trattati, sia dell'organizzazione di questi argomenti in differenti moduli, della possibilità di studiare attraverso una piattaforma che quindi consente uno studio gestito in autonomia in base ai propri tempi e devo dire che la possibilità di approfondire gli argomenti anche collaborando con gli altri partecipanti al corso è decisamente un aiuto. La possibilità di fare il quiz in una maniera estremamente elastica che consenta non una semplice valutazione ma un'autovalutazione in modo da poter approfondire degli argomenti che magari non sono stati in fase di studio approfonditi sufficientemente è davvero eccezionale. La parte che per gusti personali mi è finora interessata di più è quella degli studi preclinici e non clinici in quanto non l'avevo ancora approfondita personalmente negli studi fatti sino ad ora. Quindi devo dire di aver fatto un'ottima scelta a seguire questo corso di Eupat Italia.